Bentornati in un nuovo video di Paddle Project Italia Oggi allenamento Che cosa facciamo nella giornata di oggi? Andremo a fare un allenamento con il cesto Quindi uno lancia le palle e l'altro fa l'esercizio Ad intensità molto elevata Quindi finché non moriremo a mezzo al campo Vi ricordo di iscrivervi, lasciare like, condividere Mi raccomando è sempre essenziale È un dovere, è un dovere del cittadino Ok? Del visualizzatore di Youtube Fate finta di non aver sentito questa parte E cominciamo con il video di oggi Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.